La protezione civile di Puglia è stata attivata e messa a disposizione delle regioni colpite dal sisma e quando fa sapere il presidente delle regioni Puglia Michele Emiliano anche la Puglia si estinge attorno ai cittadini delle regioni colpite dalla drammatica e potente scossa di terremoto di magnitudo 6 delle 3.30 dell'altra notte il governatore Emiliano dice che è pronti ad andare incontro con 5 funzionari, 80 volontari con attrezzature e mezzi in autocolonna inoltre ci sta attivando per la raccolta spontanea di mezzi e viveri da portare in soccorso ai terremotati Monte Sant'Angelo in arrivo il generale dei Carabinieri Sorbino il comune di Monte Sant'Angelo si avvarrà di una preziosa figura della rotta alla criminalità uno dei più prestigiosi servitori dello Stato che ha già ricoperto gli incarichi di direttore delle operazioni antidroghe direttore e fondatore del servizio analisi criminale del Ministero dell'Interno a rivelarlo il consigliere regionale piemontese i concittadini di Monte Sant'Angelo potranno avvalersi della competenza e della professionalità del generale di corpo d'armata dei Carabinieri Sergio Sorbino si tratta di una collaborazione gratuita instaurata dalla Commissione straordinaria del Comune Garganico l'assessore regionale ha detto che è certo che il complesso lavoro svolto e da svolgere in questa fase straordinaria della vita delle istituzioni di Monte Sant'Angelo sarà estremamente utile anche quando i cittadini eleggeranno democraticamente il proprio sindaco e il consiglio comunale Manfredonia, pagamento delle istanze della CIG per il fermo pesca a seguito del decreto ministeriale del 5 agosto scorso l'Inps con un messaggio del 10 agosto comunica di procedere alla liquidazione dell'istante della CIG settore pesca per l'anno 2015 la FAECIS, la pesca di Manfredonia e Foggia si impegna a far presente all'Inps di procedere al pagamento delle istanze della CIG non è possibile affrontare un altro fermo pesca senza che venga liquidato quello precedente anche perché il settore pesca ne ha risentito molto fortemente della crisi degli ultimi anni Mercato settimanale a Manfredonia del 30 agosto verrà posticipato al 4 settembre il mercato settimanale in zona Scaloria di martedì 30 agosto 2016 è stato posticipato a domenica 4 settembre rappresentando la stessa dove saranno ubicate le bancarelle della fiera della festa patronale e le attrazioni dello spettacolo viaggiante questo è quanto stabilito con la recente ordinanza sindacale e parliamo della Fuzzadonia del calcio al 5 per il suo ripescaggio in C1 è arrivata l'attesa notizia, finalmente ed ufficialmente la Fuzzadonia apre il barco alla C1 finalmente l'ultimo tassello di un bellissimo puzzle iniziato esattamente un anno fa e pochissimi giorni dall'inizio della nuova stagione agonistica è completato il Comitato regionale della Federazione Italiana Gioco Calcio Lega Nazionale Direttanti ha ratificato la missione della Fuzzadonia al campionato superiore in C1 un titolo conquistato sul campo a seguito di una stagione celebrata per tutto il 2016 a suon di pregio e uri ed altissime vittorie quindi la Fuzzadonia fa il suo ingresso nella serie superiore e già il prossimo 6 settembre con l'inizio dell'ore 21 comincerà a selare i ranghi per la sfida di Coppa Italia con la Golden Boys gara che si gioca al Palas Calorio a condo la squadra che ha conseguito il primo posto del girone dello scorso campionato di C2 nel prossimo campionato di C1 ci saranno ben 16 formazioni pugliese squadre agguerrite tutte potenzialmente pronte per disputarsi la testa del torneo anche la squadra sipontina rinforzata ed ancora più amalgamata nell'organico sarà senz'altro capace di tenere la testa alle quotate avversarie il prossimo campionato di C2